La Kimet Under-16 della SBA porta per la prima volta Arezzo alle fasi nazionali di un campionato giovanile. L'impresa è della squadra allenata da Vezzosi con il suo assistente Tavanti. Nel girone 1 dell'Interzona ad Assisi, nella prima partita la SBA era stata sconfitta da PMS Torino. Poi nel secondo incontro la Kimet SBA aveva battuto Eurobasket Roma 67-59. Rimaneva da superare l'ultimo ostacolo, quello con la Juve Caserta. La SBA è riuscita a imporsi 74-62 qualificandosi per le finali nazionali di Bassano del Grappa. Emozionatissimo il presidente della SBA Mauro Castelli che su Facebook scrive Ai miei ragazzi Under-16 posso solo dire grazie, rimarrete nella nostra storia. Per la prima volta avete portato Arezzo alle finali nazionali. Finali che si disputeranno a metà giugno. Ancora una volta il timbro di Vezzosi ha fatto la differenza. Dopo avere portato al vertice giovanile Castelfiorentino e Virtusiena, adesso c'è riuscito con Arezzo.